La raccolta differenziata arriva anche al mercato aquilano di Piazza d'Armi, ma non è solo questo, è un passo importante verso il decoro urbano di una delle zone più frequentate della città, che ospita uno dei mercati storici degli ambulanti più antichi d'Italia, seppur in una location provvisoria. La zona di Piazza d'Armi dismesse le funzioni di mercato quotidiano, il pomeriggio ospita anziani, famiglie e bambini, luogo ideale per la corsa, ma anche per andare in bici senza rischi per i più piccoli. Più volte le persone avevano denunciato lo stato in cui rimaneva il mercato nel primo pomeriggio, a volte c'erano dei rifiuti a terra. L'eco-isola per la differenziata ora risolverà questo problema, oltre ad essere un fatto di assoluta civiltà. Un'eco-isola che si trova alle spalle del mercato in una posizione comoda per gli ambulanti, è simile per forma a quelle già installate al Torrione e in altri punti della città, che stanno funzionando benissimo. Oggi inauguriamo quest'isola ecologica che è calibrata proprio per l'area mercatale, quindi è più grande di quelle che abbiamo sperimentato in città. Ogni ambulante è fornito di una tesserina magnetica che permette l'accesso, si entra quindi all'interno dell'isola ecologica dove ci sono 18 raccoglitori per le diverse categorie di rifiuto. Sicuramente ci permetterà di risolvere tutti i problemi che abbiamo riscontrato in passato. E' un frutto anche questo della collaborazione con ASM che va avanti in modo profiguo da diverso tempo e che ci sta permettendo di migliorare le percentuali della raccolta differenziata in città. E' una cosa veramente semplice e speriamo che sia solo l'inizio di tante iniziative. Oggi è stata data tanta importanza, sinceramente non me l'aspettavo. Quindi evidentemente queste novità sono ancora molto sentite, molto seguite e spero che diventino talmente normali da diventare prassi quotidiana. E' una cosa molto importante per il mercato perché rende il mercato più pulito, ma già era pulito. Con questa è differenziata, portiamo un valore aggiunto al mercato, al mercato di piazza d'armi che è stato voluto dalla Confo Commercio dopo il sisma del 2009. Perciò penso che sia una cosa veramente per i cittadini e per noi operatori di questo mercato. Grazie.